catmario 3 3 hanno fatto il seguito di questa merda versione 1.0 quindi significherà che ne faranno ancora perchè devono tartassare i maroni dei youtubers si che bello facciamo suicidare i youtubers tanto che ce ne fotte cinesi del cazzo credo perchè iniziamo raga già sto nervoso come un animale perchè non volevo farlo 6 persone ben 6 persone mi hanno chiesto di farlo ho detto perchè dovrei dirgli di no eh spacebar cosa fa spacebar che cazzo che cazzo facciamo super salto no io non ero ma io già lo sto schifando sta merda io quella nuvola mi sta sul cazzo ma quella nuvola la odio dalla prima puntata che feci senza la web perché all'epoca ho double cure eeeh perchè quella nuvola mi sta sulle balle che cazzo sto schivando tutto alla matrix secondo me eeeh che cazzo che cazzo come è bugato beh iniziamo benissimo a puttana ma oggi gioco del cazzo non ti prendo fungo sono allergico ai funghi nooo già stiamo a zero vite due minuti sono passati neanche un minuto e cinquanta circa madonna non ce la faccio non ce la faccio più ma che cazzo mi ha fatto cagare sotto salta mamma perfetto eh ma vattene a fare in culo pure tu dai madonna che palle nooo non ce la faccio raga io mi innervosisco io non sono uno che deve fare questi giochi io sono uno che ha la pazienza subito la perde ma anche sui giochi online che sono così eh quindi non credete che cat mario che mi fa innervosire solo questo eh eeeh salto della morte si si eeeh soga sapevo che c'era qualcosa qua perchè la sotto sicuramente c'è qualcosa nuvola e a nooo aia bene eh cat mario a volte sei dato da fare questo giro che non ci sono stato ero ero occupato a a a saldare bene la porta se ok nuvola di merda consulente raga scusate avevo messo pure pausa perchè eeeh c'è il telefono che squillava bene se 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 nooo ti prego nooo non ce la faccio più cristo cristo nooo 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 mouse del cazzo ok bandiera allora sotto non c'è un cazzo sembri non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio scasso tutto eccomi di nuovo qua mi aspetto di tutto ce l'ho fatta ce l'ho fatta baffanculo a te puoi morire tutte le volte che vuoi raga io basta questo gioco vi giuro non lo faccio più al massimo lo farò quando arriverò a 100 iscritti lo farò come speciale vabbè dopo lo speciale ma sarà un altro speciale perchè vincere Get Mario è uno speciale raga io sto uscendo pazzo con sta merda capitemi io non sono un tipo cal nooo ho capito non sono un cal ora andiamoci e al prossimo video che non sarà Cat Mario